Si vede proprio che fatica a stare al basso della sua bussalia, a avere questa intensità. Un po' marce, una scelta rischiare d'acqua. Un po' marce, una scelta risposta. 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 Un po' marce. Un po' marce e un po' marce. è un mondo, è un caso, è un caso, è un caso, è un caso. E ovviamente in terza categoria è il torneo di confinio, i campioni sono passati proprio da lì, i campi. 40-15 nel frattempo che Cicco va a due palle per il...